Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore allora ragazzi oggi puntata molto importante perché inizieremo ad investire i nostri soldini nella scorsa puntata siamo andati molto vicini ad una doppia sessione infatti ragazzi vi vado a mostrare subito che abbiamo in pratica tre trattative in ballo ovvero Poli che dovrebbe partire in prestito e dovrebbe andare al Genova questa qui diciamo è la trattativa meno importante e poi ragazzi delle FEU molto vicino al Bayern Monaco per 65 milioni e il nostro Brenner che sicuramente volerà in Spagna bisogna capire se è il Real Madrid o al Siviglia spero a suo punto al Siviglia così abbiamo 10 milioni in più ma come sempre ragazzi prima di iniziare io vi invito a lasciare un mi piace riscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità a seguirmi sulla pagina Instagram, a sostenere il canale tramite un abbonamento e ad una donazione, tutti i link sono in descrizione detto questo ragazzi direi che possiamo andare avanti avanziamo qualche giorno, vediamo un po' se arriva qualche ufficialità poi possiamo andare a prendere i nuovi giocatori allora qua vedo un'interruzione della trattativa fra il Real Madrid e Brenner quindi molto probabilmente il brasiliano sceglierà il Siviglia molto bene, offerta anche per Samaric da parte del Chelsea e un altro prestito per Poli Poli che sembra essere molto vicino al Genova però io tratto anche con il Palermo diciamo che lascerò scegliere a lui comunque qui ancora dobbiamo aspettare e invece per Samaric possiamo andare a trattare perché ragazzi Samaric è un altro giocatore che abbiamo deciso di voler vendere per provare a puntare un nuovo trequartista, un nuovo COC già abbiamo individuato nella scorsa puntata il profilo ideale per noi quindi ragazzi andiamo a chiedere il più possibile al Chelsea ci offrono 47 milioni io proverei addirittura 65 nella speranza di chiudere sui 60 vediamo ragazzi perché sono squadre comunque molto forti quindi ci può stare chiedere una cifra molto alta vediamo un po', 65 milioni 47.2 ragazzi la tensione è salita di poco quindi secondo me si può fare 65, ci riprovo con pocettino e infatti ragazzi accettano subito 65 milioni per Samaric sono veramente tanti comunque ragazzi ancora nessuna ufficialità offerta per Pinzoglio da parte di Watford offerta che è già molto positiva beh io sarei tentato di accettare a prescindere perché poi secondo me sarà anche difficile farlo partire Pinzoglio comunque ragazzi io per non rischiare perché ho paura che alcuni giocatori potrebbero sfuggirci tra virgolette io ragazzi voglio assolutamente iniziare un piccolo approccio con Martinelli perché ho paura che possa guadagnare un punto per all che possa rinnovare e cose così quindi noi abbiamo deciso che si può fare un investimento importante per Martinelli al posto di Delefeco dovrebbe andare ormai al Bayern Monaco stanno ancora trattando con il contratto quindi ragazzi io direi di iniziare un pochino a scaldarci andando a trattare con l'Arsenal lì sta scritto che si può chiudere intorno agli 81 è quello che voglio chiudere sugli 80 quindi proviamo a vedere che ci dicono i Gunners allora io provo a partire proprio da 80 milioni secondo me ci può stare oppure che rifiutino a prescindere invece no ragazzi la cifra è proprio questa siamo qui con Michele Arteta riproviamo 80 accettati ragazzi forse potevo chiedere anche qualcosina in meno però ragazzi un giocatore che vale 100 milioni andarlo a prendere per 80 è un grandissimo affare quindi io vado a trattare con il giocatore ovviamente ragazzi adesso c'è il problema stipendio perché si vogliamo il giocatore super forte super conosciuto però è ovvio che bisogna trattare anche per lo stipendio che purtroppo fa scegliere a me panico vabbè ragazzi io vado scontato che lui se lo abbassi lo stipendio è anche di molto io addirittura voglio provare a scendere a 100 mila con 2 milioni e mezzo ok vuole un bonus da 20 gol magari fa 20 gol comunque allora secondo me tutto sommato lo stipendio così ci può stare io fare addirittura 120 però qua ti do solo 2 milioni cosa ne pensi cosa ne pensi che improvvisamente alza troppo troppo di più no no torniamo assolutamente a 120 ti do anche 3 milioni dai accetta no solito problema qui proviamo così 125 2.5 madonna mia che fastidio dai più di 125 non ti voglio dare ti do 3 milioni di bonus ingaggio 3 milioni di bonus ingaggio è tantissimo dai accettato ok ragazzi accettato ce l'abbiamo fatta arrivo una stella ragazzi infatti presentazione da superstar per Martinelli è la prima volta che praticamente vedo questa cinematica l'anno scorso non c'era comunque l'anno scorso non l'ho mai sbloccata ma non credo perché l'anno scorso ricordo che con i Genova ho fatto super acquisti quindi evidentemente è stata introdotta in questo gioco questa cinematica molto bene ragazzi Capri e Martinelli mister sottile a supervisionare il tutto giustamente ma ragazzi Martinelli che momentaneamente si prende la numero 9 sicuramente avrà un nuovo numero poi a mercato chiuso mi metterò a decidere tutti i numeri di maglia qui sottile proprio in veste da manager all'inglese però sappiamo benissimo che non funziona esattamente così in Italia comunque 80 milioni per Martinelli è stato più difficile la contrattazione con il giocatore che con l'Arsenal in sé 88 di ora 76,3 addirittura si poteva chiedere va bene lo stesso Delefei ormai dovrebbe essere vicinissimo alla partenza quindi ragazzi adesso stanno per arrivare veramente tanti soldini ed eccoci qua ragazzi allora chi è il primo questo qui dovrebbe essere Brenner che ci saluta Brenner partenza pesantissimo 85 milioni ci siamo rifatti subito i soldi per Martinelli ovviamente una bella addirittura potevamo avvicinarci ai 100 milioni ma ragazzi il City mi ha rifiutato 65 quindi vabbè come sempre il gioco è molto strano comunque ce l'abbiamo fatta Brenner ufficialmente venduto accordo per il prestito con il Genova per Poli quindi accettiamo l'offerta delle Feu e Samar che c'è ancora qui in attesa e ok ragazzi partito Brenner Brenner che non va rimpiazzato perché già abbiamo i nostri tre centravanti per questa stagione ovvero Cambiaghi uuuuh ragazzi attenzione super giovane rintracciato Oregliana prendilo subito comunque abbiamo già i tre attaccanti per questa stagione ovvero Cambiaghi Raymond e il giovane Greco sicuramente ragazzi sono contento e spero che possano rendere in campo bene comunque ragazzi attenzione che qua stiamo trovando dei giovani molto interessanti in Francia sto cercando un nuovo portiere magari un nuovo un nuovo Mignane chissà magari l'abbiamo trovato quindi ragazzi andiamo avanti un altro po' eccola qui un'altra sessione super illustre per la nostra Odinese è partito il capitano storico Delefeu anche se invitando la grafica per Samarzic sempre sul pezzo il gioco allora comunque Samarzic che parte va al Chelsea 65 milioni sono tanti direi che vanno benissimo eccolo qui Delefeu che va al Bayern Monaco anche qui ragazzi penso che abbiamo ottenuto praticamente il massimo vista quella trattativa C addirittura 84.8 direi che è una falsità perché è stato veramente difficile arrivare a 65 vabbè ragazzi non ci facciamo caso il gioco si contraddice da solo perché è evidente comunque ragazzi sono ottime cifre non vi preoccupate 65-65 per Delefeu e Samarzic offerta anche per Anderson bene ragazzi qua stiamo iniziando a muoverci allora ragazzi vediamo un attimo Elliot Anderson al Burley 24.3 milioni ottima cifra io provo a chiedere addirittura 30 milioni alla fine solamente 23 anni un 79 però alla crescita bloccata abbastanza a caso bisogna essere onesti comunque 30 milioni sono fermi a 24.3 ma la tensione è salita di molto poco quindi secondo me si può chiudere sui 30 e infatti accettano comunque ragazzi è partito Delefeu e l'abbiamo rimpiazzato con Martinelli è partito Brander non ci serve un rimpiazzo ed è partito Samarzic con Samarzic effettivamente ci serve un rimpiazzo quindi ragazzi noi avevamo individuato in Baldanzi l'alternativa perfetta a Samarzic soprattutto per qualità prezzo per realismo perché è un giocatore che è rimasto a Lempoli al prezzo bloccatissimo probabilmente potrebbe avere anche la crescita bloccata però sicuramente almeno un paio di punti riuscirà a guadagnarli quindi minimo 85 ci arriva poi ragazzi come sempre questa qui potrebbe essere l'ultima stagione quindi è importante costruire la squadra per quest'annata e poi ragazzi non credo che Baldanzi sia totalmente fermo con la crescita sarebbe assurdo anche se diciamo questo gioco non sarebbe una novità comunque ragazzi andiamo a contattare l'Empoli Tommaso Baldanzi per la nostra super realistico perché rimarrebbe in serie A e all'Empoli quindi ragazzi da questo punto di vista non ci sono problemi ovviamente ragazzi vorrà sicuramente un rinnovo di contratto molto sostanzioso io provo ad iniziare con 45 milioni vogliono il in junior più 10 milioni quindi vuol dire che lo valutano lo valutano tipo 45 milioni quindi io vado a togliere assolutamente lo scambio e ti vado anzi 55 milioni scusate io vado a rifare 46 milioni stavolta vediamo che dicono accettano subito conosco i miei polli 46 milioni per Baldanzi secondo me molto molto poco ragazzi questo qui è forte corre tanto potrebbe essere veramente quel tipo di COC che mi fa impazzire a me quindi sono sicuro di prendere un giocatore molto forte un giocatore fenomenale comunque vediamo un po' che vuole essere penso importante non cruciale bene perfetto ottimo 5 anni di contratto non c'è problema peccato che non abbia game face lo stipendio lo fa scegliere a me con lui ragazzi è un problema io vado a fare 50 mila e ti do un milione e mezzo perché sicuramente vorrà un aumento abbastanza sostanzioso offerta eco va bene così ragazzi perché poi già abbiamo Martinelli che ne prende 125 mila Baldanzi poi ne prende tra virgolette solo 50 adesso ragazzi con gli stipendi capiremo un po' cosa fare ma spero che non incidano più più di tanto sul rendimento della squadra purtroppo ragazzi questo gioco è un po' strano anche su questo aspetto quest'anno quindi tutto può essere però ragazzi spero che si riesce a sorvolare questo aspetto ok ragazzi abbiamo anche il nostro nuovo COC allora devo dirvi subito che ci sono già degli arrivi bloccati allora per esempio Martinelli ha già la crescita bloccata però secondo me se riuscirà ad avere un rendimento molto alto riuscirà ad entrare in forma eccellente a 90 ci potrebbe arrivare col tempo Baldanzi invece può crescere fra meno di 10 settimane dovrebbe diventare un 85 molto bene importante mettergli il piede debole comunque ragazzi con il COC siamo a posto Fujimoto Baldanzi Maric alle sinistre Imenes Longo Martinelli a destra Dingra Iling e Ferreira con De Angelis ovviamente prestato e in attacco come detto Cambiaghi Raymond e Greco comunque ragazzi alla fine abbiamo fatto solamente due acquisti aspettiamo ancora altre offerte anche le altre cessioni attenzione ragazzi Milan rivuole Pobega super offerta da parte dei rossoneri Tommasone ragazzi per me è un giocatore molto molto forte vale 66 milioni vorrei chiedere tipo il doppio però chiedere più di 130 milioni mi sembra eccessivo ecco secondo me se me ne danno facciamo 130 cifra tonda dovrebbe andare bene cioè nel senso ovvio che va bene 130 milioni però stiamo parlando comunque di un giocatore che sulla carta non voglio vendere quindi meglio così alla fine discorso diverso invece per Teate che viene richiesto dalla Juventus andiamo a trattare però ragazzi Juventus nostra diretta concorrente per il titolo l'anno prossimo perché sicuramente sarà così e vado a sparare altissimo vado a chiedere addirittura 45 milioni che vengono rifiutati subito aspettiamo squadre non come la Juve che appunto sono antagoniste nostre tra virgolette stesso discorso anche con il Milan perciò ho sparato 130 milioni diciamo a me piace sempre venderli all'estero i miei giocatori diciamo questa è una cosa anche che è sensata e che si fa spesso anche nella vita vera nel senso nessun presidente vorrebbe vendere i suoi giocatori in squadre che sono rivali ovviamente Poli qui viene venduto Poli faccia completamente differente rispetto al giocatore che si è visto va bene o forse era Pinzoglio la cosa più sensata è questa Pinzoglio comunque va ufficialmente al Watford va bene ragazzi diciamo con lui non mi aspettavo di incassare nulla alla fine decide di andare al Genova molto bene ha scelto il Genova ci sta e poi ancora doppia offerta Zanoli ancora il Napoli e il Viglia Real su Teate eh Viglia Real molto interessante allora ragazzi Napoli Zanoli Zanoli ragazzi Zanoli per me per me è un fenomeno ragazzi io vado a chiedere 80 milioni cioè lui vale praticamente 40 milioni vado a chiedere il doppio diciamo avrebbe più senso forse 75 però io vado a sparare altissimo 80 milioni perché appunto voglio che la che la trattativa salti in questo modo e invece ragazzi per Teate c'è da ragionarci meglio alla Juve ho chiesto 45 con il Viglia Real proverò a partire da 40 secondo me 40 milioni per Teate ci possono stare si potrebbe anche chiudere sui 35 vediamo un po' gli spagnoli che ci dicono se è una cifra troppo alta e insensata vediamo 40 milioni accettati subito che bello la Juve 5 milioni in più ti rifiude a prescindere non è che ti rialza diciamo al ribasso no non ti fanno un'altra offerta invece Viglia Real accetta subito 40 milioni come sempre questo giochino ci regala queste montagne russe comunque ragazzi va bene così non è importante diciamo che la mia indole di prendermela con il gioco è più forte di me in pratica comunque venduto ufficialmente Elliot Anderson che va al Burley per 30 milioni di euro a per noi benissimo potevamo chiedere addirittura 5 milioni in più va bene comunque ragazzi finalmente arriva anche l'offerta per lungo e quindi ragazzi allora cosa possiamo fare oggi prima di chiudere questo episodio allora cercare di vendere al Nottingham Forest lungo e provare a prendere il sostituto di Elliot Anderson che dovrebbe essere scusate dovrebbe essere Parisi o comunque la nostra prima scelta è Parisi fatemi vedere un attimo una piccola cosa voglio vedere un attimo Aslani perché voglio vedere se ancora il prezzo è bloccato stava sui 31 milioni quindi spero che sia sempre così la diciamo la sua valutazione da parte del gioco Aslani che appunto verrà a fare il sostituto di Capri Vegas sta venendo a rimpiazzare a rimpiazzare Elliot Anderson appena venduto al Berlin in Inghilterra quindi andiamo un attimo a contattare l'Inter mi ricordo che anche Elliot Anderson l'abbiamo preso dall'Inter quindi ragazzi vediamo un po' se questa volta avremo più fortuna allora con lui io provo a partire molto basso provo a fare 28 milioni ok sono interessati vogliono Longo però ragazzi Longo preferisco venderlo per cavoli miei tra virgolette comunque mi stanno chiedendo circa 30 milioni quindi ragazzi secondo me 29 milioni ma anche 28 e mezzo facciamo 29 dovrebbero accettare vediamo 29 milioni 31.5 facciamo 29.5 no sono fermi a 30 accettiamo 30 milioni tondi tondi veniamo incontro a Simone Inzaghi 30 milioni per Aslani ci stanno benissimo è un 82 quindi vorrei dire comunque vediamo un po' spero voglia essere turnover anche se penso chiederà importante no chiede turnover benissimo ragazzi sono contento di sta cosa 5 anni di contratto assolutamente ignoriamo la clausola recessoria anche stavolta lo stipendio lo fa scegliere a me secondo me potrebbe abbassarselo un pochino quindi provo a fare un milione e mezzo di bonus in gaggio e 70 mila di stipendio e infatti offerta equa va benissimo ragazzi come sempre io con gli stipendi ho paura che la trattativa possa saltare visto che è sempre imprevedibile quando vai a fare queste trattative quindi meglio così anche se diciamo abbiamo pagato qualche giocatore un po' in più non fa niente sinceramente perché stiamo prendendo Aslani che è comunque un giocatore di serie A quindi appunto sulla carta dovrebbe volere uno stipendio simile comunque preso esattamente alla cifra giusta anche secondo il gioco e adesso ragazzi prima di chiudere trattativa con il Nottingham Forest per Longo prova a chiedere 40 milioni ragazzi Longo è un giocatore molto talentuoso almeno secondo il gioco sul campo non si è mai visto secondo me o comunque si è visto solamente a sprozzi e quindi secondo me ci può stare chiedere 40 milioni che però vengono rifiutati a prescindere peccato ragazzi ma ci riproveremo non vi preoccupate quindi ragazzi riassumendo il tutto direi che oggi abbiamo fatto ottime cose addirittura tre acquisti è arrivato Baldanzi è arrivato adesso Aslani ma soprattutto abbiamo acquistato Martinelli dall'Arsenal al posto di Delefeu e quindi ragazzi direi che per oggi possiamo fermarci qua come sempre vi invito a lasciare un mi piace a iscrivervi al canale a seguirmi sulla pagina Instagram a sostenere il canale tra i modi un abbonamento e ad una donazione noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti Ciao a tutti Grazie per la visione!